... Bella, c'è ancora il tempo a cambiare! Voglio fare un altro sport! L'hai capito? Ma non ho sbagliato! Calma, calma! C'è la qualta al centro! Ho paura! Non c'è la qualta! Non c'è la qualta! Non c'è la qualta! Ah, non parlate mai di politica? No. Ma non si ha detto neanche della sofferenza del suo partito? Aspetti che guardo un attimo qui perché ho un libretto sul PC. Questa la mia professionalità non... Però io di solito mi occupo di sport. Mi occupo di sport? Lo dice anche. Fuori, 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 fuori! Posso fare le palumelle? Nooo! Allora ci rimane dentro una rabbia, tu lo sai! Lo sai cosa abbiamo qui dentro? Tanta rabbia, tanta bile, ma tanta! E tu, per favore, non farcele esplodere! Oh! Non è uno sport per signorine! Ehi! Ehi! Ehi, ehi! Mi ha dato un pugno! Ma non in una fase di gioco! Durante una conversazione lui ha usato un'espressione fastidiosa! È tardi! Ormai l'intervista è in stampa! Trend negativo! Ahahahah! Trend negativo! Io non parlo così! Non penso così! Trend negativo! non penso così! Negativo! ін